Grazie Presidente, colleghe senatrici, colleghi senatori, rappresentanti del Governo. Finalmente il Governo ci sottopone un provvedimento utile e per farlo, motivo del nostro apprezzamento, si è deciso ad adottare un decreto sovranista, la difesa dei nostri confini dalle illecite intrusioni extracomunitarie. Purtroppo stiamo parlando solo dei confini digitali. Per quanto riguarda quelli fisici, siamo ritornati al colabrodo delle frontiere che ben conoscevamo nella precedente legislatura ai tempi dei governi Renzi e Gentiloni. Su questo ci sarebbe molto da dire, ma non è questo l'argomento di oggi e non servirebbe comunque. Le notizie e i numeri degli sbarchi sono sotto gli occhi di tutti gli italiani e loro se li terranno ben in mente quando saranno chiamati a votare, alle prossime elezioni regionali, a partire da quella dell'Emilia Romagna, fino alle prossime elezioni politiche, che speriamo arrivino il prima possibile. Non siamo, come detto, contrari a questo provvedimento, perché nasce da valutazioni e su input specifico dell'esperienza governativa della Lega. Anche l'intero articolo relativo al Golden Power non è altro che la riproposizione letterale del decreto non convertito la scorsa estate dal governo Conte 1. Come vedete, a differenza dell'ex avvocato del popolo, noi la parola su questo la manteniamo. In totale spirito collaborativo abbiamo tentato di suggerire migliorie al testo, in particolare all'articolo 1. Ad esempio abbiamo proposto di accelerare i tempi in cui dotarsi del perimetro difensivo cibernetico, ma avete votato contro. Abbiamo proposto di estenderlo al sistema radio televisivo, ma avete votato contro. Volevamo introdurre le soluzioni del Cloud Driven per garantire il controllo continuo, costante e sicuro delle infrastrutture, ma avete votato contro. Volevamo che ci fosse uno scambio di informazioni tra tutte le autorità al fine di contrastare il terrorismo, ma avete votato contro. Abbiamo inoltre cercato di farvi capire che c'è una falla nell'articolato del testo. I soggetti interessati sono infatti tenuti a segnalare alle autorità competenti gli incidenti che interessano i loro sistemi. Ebbene, in tutto il decreto non vi è alcuna indicazione di cosa si debba intendere per incidenti. Abbiamo presentato un emendamento per chiarire la questione, ma lo avete rispinto e non avete nemmeno accolto il suggerimento di demandare la cosa ad un successivo decreto. Il rischio reale e concreto è che, se non vi è piena chiarezza, ci si troverà in futuro a brancolare nell'incertezza con il rischio di vedere aperti innumerevoli contenziosi. Ma non è nemmeno questo il motivo che ci spinge a non votare a favore del decreto, ma a dichiarare il nostro voto di astensione. Sebbene oggi il Governo si prodighi in aggiustamenti dell'ultimo minuto e sebbene nell'altro ramo del Parlamento siano stati inseriti alcuni contrappesi, come il coinvolgimento delle commissioni parlamentari competenti, riteniamo che questo atto conferisca troppi poteri al Presidente del Consiglio, soprattutto visto chi è il Presidente del Consiglio in carica. Com'è possibile affidare la sicurezza delle frontiere digitali ad un Premier che è stato chiamato dal COPAS a richiarire il possibile uso distorto dei servizi segreti per fare l'interesse di una potenza straniera? Quello che ha svenduto l'Italia in cambio di una benedizione di Macron, della Merkel e della von der Leyen? Quello che chiedeva consigli al Cancelliere tedesco per limitare l'azione dell'allora suo vice, nonché Ministro degli Interni? Quello che ha fatto tornare le frontiere del mare un colabrodo e si è chinato al volere delle ONG straniere? Quello che non batte ciglio se la Germania ci rispedisce i dublinanti o se la Francia ci scarica centinaia di clandestini al confine con Piemonte e Liguria? Dico un forte no! A lui io non affiderei nemmeno la difesa del salvadanaio di mio figlio. Figuriamoci la sicurezza cibernetica dell'intero Paese. La Lega e la stragrande maggioranza degli italiani non si fida più di Giuseppe Conte. E se come in una delle più famose massime della storia politica ci venisse oggi chiesto comprereste mai un'auto usata da quest'uomo? Noi risponderemmo anche qui con un forte convinto no. Peccato che in quest'Aula ci sia invece chi ha fatto le corse per comprare non un'auto usata, ma una pochette di seconda mano. Vi accorgerete presto dell'affarone che avete fatto. Tanti auguri.